Siamo qui oggi con Nicoletta Dosio alla quarta edizione dell'Oltre Economia Festival Corpi e territori il tema e il titolo di quest'anno e vorrei farti subito una domanda non semplice e cioè ormai da più di 25 anni la lotta Notav in Val di Susa tiene banco ed è una se non l'unica esempio in Italia di cosa vuol dire creare comunità resistenti e forme alternative e di contropotere rispetto alle governance che nei nostri territori e nostre vite guadagnano sfruttando il territorio. Quali sono gli elementi che permettono o quali possono essere gli elementi che permettono di resistere così a lungo senza perdere mai diciamo la retta via verso la vittoria insomma? Una domanda da un miliardo Quali sono gli elementi che permettono di resistere? Intanto la consapevolezza che non è giusto subire e quindi la capacità di liberarsi da quell'interiorizzazione della sconfitta che caratterizza spesso l'altra faccia della sconfitta definitiva e poi è la coesione. La nostra forza noi abbiamo resistito perché intanto ci siamo resi conto di che cosa stava per succedere. La devastazione del territorio annunciata, il taglio di posti di lavoro decenti, i problemi per la salute e la negazione del futuro per tutti. Ce ne siamo resi conto, abbiamo approfondito gli argomenti e li abbiamo comunicati a tutti. Nel momento in cui sono arrivati per iniziare la gente sapeva esattamente che cosa doveva mettere in gioco ed è... E si è alzata in piedi. Gli strumenti ce li siamo costruiti giorno dopo giorno sul campo. Quello che devo dire ed è la forza principale che tiene insieme una lotta e la fa andare avanti è la capacità di costruire collettività intorno alla lotta. La lotta paga anche in questo senso, non solo perché in quasi 30 anni la grande mala opera non l'hanno ancora iniziata. Hanno fatto un maxi sondaggio ma quello che loro vorrebbero fare è ben altro. Ma anche perché lo stare insieme e il lottare insieme crea davvero, ricrea una collettività che si era persa attraverso il tempo. Questo sistema che delle grandi male opere ora e prima dello sfruttamento della fabbrica aveva fatto il piedestallo del proprio potere e della propria ricchezza certamente ha trovato la sua forza nella divisione tra le persone. Creare solitudine, creare senso di impotenza, creare egoismo, creare la guerra tra poveri. E noi abbiamo fatto l'esatto contrario. E cioè la lotta ha permesso di unire generazioni diverse, di dare forza, di dare anche una speranza attiva che non è solo lo sperare in astratto ma invece creare poi gli strumenti per poter lottare. E la repressione chiaramente si è alzata contro di noi nel momento in cui ha visto che non solo noi resistevamo ma creavamo consenso intorno a noi e poteva diventare un esempio per una lotta e un conflitto molto più diffuso. Anche rispetto a questo abbiamo trovato la forza di reagire non piangendoci addosso ma cercando di contrastarlo questo sistema. Uno degli strumenti peggiori è stato proprio il tentativo di dividerci creando le cosiddette differenze tra buoni e cattivi. Ma noi che abbiamo provato che cos'era questa legalità e era l'esatto opposto della legittimità e della giustizia anche in questa trappola non siamo caduti. Ci siamo fatti le magliette, mi sono un black bloc. Io sono un black bloc nel momento in cui cercavano i mass media e comunque il potere cercava di dividere tra la buona Valle di Susa che aveva tutto il diritto anche di fare processioni e manifestazioni contro l'opera e i cattivi che invece venivano ad agire. Noi manifestiamo ed agiamo sempre insieme. E anche questa consapevolezza ci ha permesso di rivendicare uno strumento sicuramente desueto nelle lotte e cioè quello del sabotaggio. Per noi il sabotaggio torna ad avere l'antico significato. Il sabotaggio era la lotta degli operai lionesi tra l'altro che buttavano gli zoccoli, gli jabò nelle macchine per abbassare il ritmo di lavorazione e contro i licenziamenti. E quindi in questo senso noi questo sistema lo sabotiamo collettivamente tutti quanti insieme con manifestazioni, col taglio delle reti, con la disobbedienza rispetto alle misure preventive e andando avanti giorno dopo giorno calibrando le nostre forze in base alla necessità ma sicuramente non arrendendoci mai. La nostra forza è collettiva. Da soli non saremmo niente. Insieme invece, insieme all'interno del movimento Notav ma anche con i tanti altri movimenti che sono sorti sicuramente abbiamo non solo speranza ma certezza che ce la faremo. Creazione di collettività e anche da responsabilità collettiva, l'assunzione della responsabilità collettiva e il piano di ciò che è legale e giusto e ciò che è legale e non per forza è giusto che abbiamo visto come quest'anno te hai dato l'esempio e voi avete dato l'esempio di come una comunità può disobbedire in maniera forte a sistemi repressivi che vediamo nell'ultimo periodo a Cento Assi, tra l'altro con l'Aminiti Orlando negli ultimi due giorni di festa ne abbiamo ampiamente parlato e volevo chiederti se questo elemento è fondamentale e come si può continuare ad alimentare perché credo che per tutti vederti la bellissima immagine di te che vai a fare la spesa al mercato con decine e decine di persone che ti accompagnano sia stata una cosa molto molto bella da brividi quasi è stato molto bello anche per me che li ho vissuti questi momenti che sono nati un po' come l'uovo di Colombo e cioè il fatto di dover presentarsi quotidianamente per misure preventive a firmare un registro dai carabinieri diventava un'imposizione assolutamente inaccettabile sapendo che questa era la risposta ad una lotta, ad una manifestazione che avevamo fatto collettivamente in cui c'eravamo beccati lacrimogeni a non finire anche botte e quindi il discorso è questo non è giusto quando il potere utilizza degli strumenti ingiusti la resistenza è non soltanto un diritto ma prima di tutto un dovere era uno dei principi che erano stati proposti per la Costituzione italiana nata dalla resistenza non è stato introdotto ma lo spirito delle lotte deve assolutamente tenerne conto allora non l'ho fatto soltanto io, l'hanno anche fatto altri compagni la cosa è stata possibile proprio perché intorno c'era questa collettività solidale e fraterna e questo ha spaventato il potere, ha spaventato quei tribunali che sono più che mai l'espressione di quel potere che sui territori vuole devastare la nostra vita il nostro futuro e la natura che è un bene di tutti si sono spaventati tant'è che alla fine hanno tirato i remi in barca e io adesso dopo aver avuto tutto un aggravamento delle misure dalle firme all'obbligo di dimora e poi ai domiciliari adesso sono libera libera perché evidentemente l'alzarsi in piedi e l'avere intorno a sé il proprio popolo i propri fratelli, le proprie sorelle, i propri figli fratelli, le sorelle, figli nella lotta che è un legame profondo non meno del legame di sangue direi che è molto più profondo perché te lo scegli questo è stato un grande incoraggiamento ed è stato un momento veramente bello, pieno di emozione per cui io penso che potrebbe non essere soltanto un episodio sappiamo che tanti diritti sono stati conquistati con la disobbedienza cose che sembravano assolutamente irraggiungibili poi invece sono diventati veri e allora forse è anche il momento di non obbedire più a queste misure sono misure preventive che colpiscono non quello che uno fa ma quello che uno è servono per far paura per allontanare dalla lotta, per isolare e allora lì dobbiamo andare per esempio anche tutti questi momenti di lotta collettiva che vengono impediti preventivamente fermando il pullman e prendendo i documenti o addirittura mandando ai centri di identificazione collettiva i manifestanti sono cose assolutamente intollerabili la legge Minniti Orlando non fa che legalizzare mettere nero su bianco quello che in realtà da tempo ormai succede sui territori e contro le lotte è ora di dire basta la ringraziamo Nicoletta ci vediamo dopo per la conferenza alle 17.30 qui sul palco io ringrazio tutti voi per l'invito sono contenta di essere qui insomma mi sento a casa perché là dove ci sono lotte c'è casa grazie grazie grazie